Ciao a tutti, Dreamlike Movie da il benvenuto a un nuovo episodio dell'erede di Forinfesta! Oggi è il grande giorno dell'addio al celibato di Gabriel e l'addio all'ubilato di Martina! Eh sì, oggi ne vedremo delle belle! Gabriel si è appena preparato per uscire, per andare appunto a celebrare, a festeggiare il suo addio al celibato e Martina quindi sta controllando la camicia, mi raccomando tesoro, non fare sciocchezze, ci saranno anche le ballerine, vero? Ma io non lo so a dire il vero, ma va bene, divertiti comunque, grazie tesoro! Comunque, sai, non ha organizzato Daniel, per cui non penso proprio che ci saranno le ballerine! E lei, vabbè, amore, divertiti, mi raccomando! Quindi, si... Si abbracciano, volevo che si abbracciassero! Vabbè, esprimi affetto! Perché ti sei seduto lì? Vai e divertiti tesoro, mi raccomando, ci vediamo domani mattina! Non bere troppo, non fare sciocchezze, però divertiti! Certo, tesoro, berrò solo caffè, non ti preoccupare! Certo, come no! Allora, quindi, andiamo al luogo dove avrà... Dove avrà luogo? Che brutto! Vabbè, andiamo al luogo dove ci sarà l'addio al celibato! Eccoci alle sorgenti incantate! Eh, sì, è questo il luogo che gli amici di Gabriel hanno scelto per festeggiare il suo addio al celibato! Joaquin purtroppo ha il lavoro, però li raggiungerà dopo, appunto, ho creato il raduno per l'addio al celibato! E tra i suoi amici, appunto, ci sono... Vabbè, ho messo Maurizio, giustamente, c'è Ugo, c'è Daniel, ovviamente, e Michael. Alessandro non l'ha trovato, per cui, vabbè, amen, ce ne faremo una ragione. Forse perché non lo conosceva? Strano, però, che non lo conosca. No, Alessandro proprio non lo conosce. Vabbè, quindi, lo abbracciamo. Abbraccia, abbraccia Daniel. Oh, grazie a tutti per aver organizzato questa festa, grazie davvero. E lui dice, beh, allora, dai, andiamo dentro a divertirci, non stiamocene qua con le mani in mano. Non ci sono le ballerine, vero? E lui, eh, che vuoi fai saperne? Ti sembra che io non ho chiamato le ballerine? Ma dai, per favore, Gabriel, Daniel, non è il caso, sai com'è Martina. Ma piantala di pensare a Martina, cosa direbbe, cosa farebbe. E il tuo addio al celibato, si vive una volta sola. Ebbè, non ha tutti i torti, però, sapete com'è Gabriel, è uno piuttosto posato. Quindi, vabbè, andiamo all'interno. Ecco qua che Gabriel è andato a cambiarsi, perché, logicamente, si mette in costume da bagno. Ecco qua, adesso anche lui è pronto, ma arrivano dei bambini, no? E Ugo è già qua che balla, ma perché sei in canottiera con il costume da bagno? Pff, vabbè, io direi che assumiamo un DJ professionista, o di grido. No, vabbè, ormai abbiamo assunto il professionista. Però, appunto, nell'attività del club c'è ballare e usare la piattaforma per tuffi. Per cui, tuffati per il gruppo, facciamo un tuffo semplice. Cominciamo con qualcosa di, appunto, semplice, fattibile. Chi è? Che fa il DJ? Roberto Serra, non lo conosco. Per cui, adesso, Gabriel si tufferà per il gruppo. Vediamo come se la cava. Ecco che i suoi amici, vabbè, il suo amico Ugo e il suo fratello lo guardano. Speriamo che non si faccia male. Vai! Uh, e Joaquin ha anche guadagnato una promozione. Promosso a pianista, a professionista. Non ci speravo più. Bene, perfetto. Allora puoi venire qua anche tu. Porta qui Joaquin. E adesso, tesoro, vai qui. Magari ti cambi anche tu prima di arrivare. Cambia abito e ti metti il costume da bagno. Vedete, i tatuaggi non li ha voluti togliere. Bene, perfetto. Adesso, tuffati di nuovo per il gruppo. Facciamo un bel tuffo a bomba. Dai, andiamo su di difficoltà. Perché questo era un po' troppo facile, in effetti. Vai! Che fisichetto che ha messo su Daniel. A forza di andare a fare jogging. Ha messo su un gran bel fisico. E in confronto a Gabriel si vede. Tuffati per il gruppo. Facciamo un tuffo ad Angelo. Invece Joaquin ha messo su qualche chilo da quando era più giovane. Vai, e non farti prendere in giro dagli altri. Che bravo! Ma, davvero? No, adesso fai il salto mortale all'indietro. Mi spiace, ma lo fai. Non me l'aspettavo che fosse così bravo. E bambina? Laura? Salto mortale all'indietro. Sì, dai. Vai che sei un gran figo. Vai. Ai, ai, ai. Ah, no. E lui è rimasto schizzato dall'acqua. Vabbè. Dato che ci siamo qua, spruzza. Cosa che non puoi fare, Daniel? Ma, dove stai andando, Daniel? Non è previsto. Non è una cosa prevista, Daniel. E vieni subito fuori. Stai sbagliando tutto, Daniel. Vabbè, senti. Andiamo a prenderci qualcosa da bere. E da mangiare a questo punto. Assumiamo un mixologo. L'unico che sta ballando è Ugo. Vabbè, intanto balliamo. Facciamo un bel ballo di gruppo. Uno, due passo. Comunque no, alla fine non ci sono le ballerine. Daniel stava dicendo una sciocchezza. Anche perché non è stato lui a organizzare il tutto. Sono stati, secondo me, Ugo e Michael. Guardate, i ragazzi. Ci siete per questo ballo di gruppo? Oh, lui è rimasto fuori. Vabbè, ormai sei in ritardo, ciccio. Dovevi pensarci prima. Guardate che belli i miei ragazzi. Quanto sono fiera di loro. Bravi. Ti stai divertendo? Sì, direi proprio di sì. Comunque adesso è giunto il momento di bere qualcosa. E magari di ordinare anche qualcosa da bere. Ma c'è luce in questo posto? Direi di no. Metto un po' di luci perché effettivamente mi viene l'angoscia. Ordiniamo una bevanda di gruppo. Cosa si possono bere? Ovviamente il meloir della tenuta fuori in festa. Che domande mi faccio anch'io. Ovviamente. Cos'altro potrebbero mai bere questi ragazzi? Salve signorina. Ci faccia un giro per tutti di meloir della tenuta fuori in festa. È carina lei. Liberty. Ah, è Liberty lì. Ho capito chi è. Secondo me Daniel farà un po' il provolone con lei. Vediamo. Ma tu non dovevi bere? Dove ti stai spostando? Sei tu l'anima della festa e non te ne puoi andare. Bevi. Ma cosa fai qua da solo? Guarda che la festa è appena cominciata. E in effetti... Dai, vai a prenderti da bere. Dovresti anche fare un po' l'anima della festa, eh? Perché, cioè, voglio dire. Allora. Tipo, raccontiamo barzellette. Anzi, racconta una storia buffa. Vorresti fare un salto mortale all'indietro. Ma ti sei appena schiantato. E se facessi finta di non volermi più sposare, secondo voi, Martina mi butta nel water e tira l'acqua. Oddio. Potrei farglielo, però, questo scherzo. Non sarebbe meraviglioso. E lui pensa... Cosa sta dicendo? Ma è matto, per caso? Eh, sì, in effetti, Gabriele. Che cosa stai dicendo? Eh, vabbè, deve andare in bagno. E Maurizio ci è rimasto malissimo. Guarda che scherzava. La sposa era tua figlia. Non ti preoccupare. Dai, andiamo a raccontargli una barzelletta sui vecchi tempi. Ma che barzelletta è? Quella sulle pernacchie, ma dai! Buffo. E Joaquin, puoi anche andare... Fai un'imitazione. Puoi anche andare in bagno, Joaquin, sai? Non ne ha vietato. Ragazzi, è un po' smorta questa festa, eh. Cioè, mi sembrate veramente il club della terza età. Dai, per favore, dai! Su con la vita! Ragazzi! Prendi le patatine. Ah, sì, hai ragione. Prendi queste patatine. Ed è rimasto qua solo con loro. Vabbè, siediti insieme. Sedetevi tutti quanti qua e poi andremo di nuovo a ballare. E se prendessimo del cibo tipo tapas con pita e hummus? Lui è seccato. Dopo quella battuta non è più il mio rizio di prima. Prendi una porzione insieme. Smettila di mangiare da solo. Oh, così si fa. Ma qua la musica... Ma... Scusate, DJ? Ah, devo fare tutto io. Accendi elettronica. Ecco, cerca di conoscere meglio il tuo futuro suocero. Perché qua è amichevole. Chiedi della sua giornata. È molto a disagio. Perché? Discuti dell'umore di disagio. Vediamo se ci dice qualcosa. Sei malato, Maurizio, per caso? Anzi, è malato, signora... Conte alberghini, per caso? Ha la malattia dell'orso. Vedete? Perché di così... Così di malumore? Ha un po' di sonno. E... Daniela, per caso... Ha fatto qualcosa che non doveva? Beh, lei sì, sicuramente. Spesso e volentieri. Stereo spegni e assumiamo di nuovo un DJ di grido a questo giro. Ma se ne stanno tutti andando? No, 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 tesori. Quindi, terminiamo il raduno e lo reiniziamo da capo. Allora, ballo di gruppo. Facciamo un altro ballo di gruppo. Sono tutti morti. Dai, facciamo un ultimo ballo di gruppo, ragazzi. Per favore. Lui si sta addormentando sulla sedia. Sì, sono anche quasi le 4 del mattino. In effetti, hanno ragione ad essere stanchi. Poi dai, fai un ultimo tuffo per il gruppo. E poi direi che siamo a posto. Questo ce lo possiamo mettere nell'inventario? Sì. Questo? Anche. Ovvio. L'abbiamo ordinato noi. Perfetto. Facciamo un ultimo tuffo. Un altro tuffo mortale all'indietro. E questa volta voglio vedere se ce la fa. Si stanno tutti lamentando che vogliono andare a dormire. E, vabbè, posso crederli. Vai. Un ultimo tuffo. Oh, bravo. Solo lui è rimasto a guardare. Va bene, dai. Allora, facciamo che... Lo ringraziamo. Vabbè, facciamo un complimenti per l'abito. Ma in realtà è un ringraziamento per essere venuto. Tutti gli altri mi sa che sono scappati. A meno che non siano di sopra. No. No, no. Se ne saranno andati. Sicuro. Infatti. Grazie mille per questa festa fantastica. Non è stata una bidonata, come credevo. È stata quasi un'opera d'arte. Ma cosa stai dicendo? E penso che ci siano voluti tanti soldi, no? Anche per rendere così pulito questo posto. Che adesso qualcuno ha sporcato. Ma no, ma vai tranquillo. Sennò è stato un piacere organizzare il tuo addio annubilato. Annubilato. Ce li batto, sai, non capita tutti i giorni. Pensavo a una cenetta romantica. No, va bene, va bene, va bene. Vai qua, vai qua, vai qua. Per carità. Termina il raduno. E andiamo a casa. Perché ormai appunto... E lui si sta godendo il DJ. È più arzillo, Jacques-Hen, di tutti gli altri. Che sono più giovani. Vabbè, andiamo a casa. E Ginevra è stata promossa a leader nazionale. Che cosa facciamo? Andiamo al lavoro questa volta. Promossa a leader nazionale. E vai, ce l'ha fatta. La nostra Ginevra ce l'ha fatta. Guadagnerà 109. Si mollino in più a loro per un totale di 340. Wow. Ha anche ricevuto 5548. E chic maestoso non so che cos'è. Sarà, penso, l'abito. Comunque sì. La nostra Ginevra è arrivata alla... Allo step. A livello 10 della carriera politica. Come leader nazionale riscuoti il rispetto di innumerevoli cittadini. Sì, di sicuro hai combinato qualcosa di buono per ottenere così tanti voti. O magari hai solo baciato il neonato giusto. In ogni caso goditi il successo. Ce l'hai fatta. Per cui la nostra Ginevra... È diventata leader nazionale. Riuscirà a riprendersi la tenuta fuori in festa quindi... E ho qualche dubbio. Non ce lo faremo in questa generazione. Temo. Però sì. Essere un gran leader è già un passo. Per cui Ginevra... Goditi il tuo successo. Infatti si sta esercitando con il prossimo discorso. Anzi, col discorso che farà oggi. Nella Camera dei Deputati. Quando si presenterà ai colleghi. E ora... Va bene, va bene. Vai al lavoro. Piantala, vai al lavoro. Joaquin è ancora in costume. E sta scrivendo un'altra canzone. Vabbè, ci vediamo tra poco con l'addio al nubilato di Martina. Ed eccoci qua con Martina e il gruppo di donne. Oh, grazie mamma. Sei stata tu vero ad avere questa pensata. Ti ringrazio molto. Eh sì, è stata la cara Daniela a pensare a come trascorrere l'addio al nubilato della figlia. L'ha portata alla spa. Eh sì. Le donne oggi si dedicheranno... Anzi, si concederanno una giornata all'insegna del relax più totale. Per cui cure di bellezza, massaggi e tutto il resto. Per cui io direi subito di andare a farci fare un massaggio a mani e piedi. Per cui sì, è un addio al nubilato. Però diciamo che è tutto incentrato su Martina. Dove stai andando, tesoro? È venuta fuori lei addirittura. Va bene. Potevi cambiarti prima, dire il vero. Ah, già bene. No, 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 no. Scusa, è cambiati. No, forse ci mettiamo... Ci mettiamo un asciugamano, un accappatoio. Eccola qua anche Ginevra. E le ragazze si concedono già delle bevande. Allora, indossa un accappatoio. Tesoro. Ho sbagliato io, ma non fartelo fare. E sì, insomma, c'è tutto il gruppo delle donne più vicine. Indossa un accappatoio, ti ho detto. Delle donne più vicine a Martina. Per cui oltre a Daniela abbiamo anche Ginevra, Morgan, Michelle e Lucia. Per cui, diciamo, più che altro quelle di famiglia, tra virgolette, no? Perché bene o male sono tutte imparentate con Ginevra, tra virgolette. Cioè, sì, Michelle è sua figlia, logicamente. Morgan è la ragazza, vi ricordo, di Daniel. E Lucia è la probabile sorella biologica di Michelle. Stanno facendo dei test a proposito, insomma, per cercare di capire se sono veramente sorelle. Per cui richiedi un massaggio alle mani. E poi più tardi andremo tutte quante nella sauna. Fra 30 minuti inizierà la lezione di yoga. Vabbè, ma tutte le altre, in effetti, dove sono sparite? Ah, a bere. Mi fa piacere. Le donne che bevono. Cosa ne pensi, mia cara Michelle, di questo matrimonio? Eh, sì, dice Michelle. Ce li vedo, ce li vedo. Sì, sì, secondo me stanno bene insieme. Come è invecchiata la povera Daniela. Torniamo da Martina. Che, non so voi, ma io mi riasso a guardare i sim mentre ricevono massaggi. Lo so, sembro matta, però è così. È sempre stato così fin da quando hanno introdotto in The Sims 2, mi pare, i massaggi. Non è così che si massaggia, sai? Mizuki, mi spiace dirtelo, ma no. Non ne so molto in materia, ma sono sicura che non si faccia così. Un bel massaggio anche ai piedi, giustamente. Che male non fa. Ma Ginevra che fine ha fatto? Scusate. Anche lui è alla spa, però quella cinese. Senti, tesoro. Sono all'addio al nubilato di tua sorella, per cui non di tua sorella. Di tuo, sì, vabbè. Della tua futura cognata, per cui non rompere le scatole. Allora, lei potrebbe unirsi a Michelle. Per cui, amichevole, chiedi dei progetti futuri. Ancora con questi progetti futuri, ma ormai lo sai che cosa vuol fare tua figlia nella sua vita. Ah, c'è anche Fabio, l'amico di Michelle. Secondo me, lui un po' la segue. Rilassati con Michelle. Lei? Ma cosa stai facendo, tesoro? Allora, ci beviamo qualcosa insieme. Per cui, prendi una bevanda. Avrei voluto che la prendessero insieme, però fa niente. Ci prendiamo una bevanda. Mi sa che Daniela era andata a una lezione di yoga. E dopo ci andiamo anche... Uh, dobbiamo fare altri massaggi qua, ragazzi. Non abbiamo minimamente finito. Ricevi un massaggio della fertilità? No, non mi pare il caso. Sportivo, svedese... Aromaterapia. Con bocciolo di loto. Sì. Mi pare una cosa interessante. Scusa, Joaquin, ma te che cavolo ci fai qua? Vai a casa. Perché ti autoinviti? Qui iniziano lezioni di yoga una dietro l'altra, praticamente. Tu sei ancora nella sauna. Potresti andare a mangiarti qualcosa. Vabbè, che tra un po' arriveranno anche le altre nella sauna. Però sì, mangiati qualcosa. Ma non c'è più nessuno. Che fregatura. È flortante adesso, ma Ginevra. Ma come mai? Potresti farti un bagno. Un bagno, ma non so dove. A dire il vero. C'è la possibilità di farsi un bagno? Ah, sì, qua. Fai un bagno di fango. Anzi, no, perché poi ti sporchi. Fai delle immersioni con gli agrumi. Ma il raduno? Inizia il raduno. Venite tutte qua, non vi ho detto di andare. Avete finito? Molto felice. Anche se la sua festa è molto più tranquilla di quella di Gabriel. Beh, non che, cioè, voglio dire, quella di Gabriel non è stata nulla di che. Però, rilassati insieme. Però se la sta godendo molto di più. Ma, scusa, io ti avevo detto di fare un bagno di fango? No. Ma te che cavolo vuoi, Victor? Fattene via. Ah, no, è quello con gli agrumi. Va bene, perfetto. Andate tutte quanti a rilassarvi insieme. E vediamo se parleranno di questo matrimonio. Ma potereste lasciare uno spazio per... Tipo, te potresti andare via. Te anche. Martino, si impessivista, sono spesso tristi. Vabbè, parliamo un po' con... Con la cara Morgan. Amichevole, chiedi della sua giornata. Che presto diventerete imparentate, in un modo o nell'altro. Condividi pensieri malinconici. Vi togliete di mezzo, ragazze? Sai, io sono felice di sposarmi. Ma mi spiace per te che hai scelto lo shallot sbagliato. E lei scoppia a piangere. Ma un po' di tatto, Martina! Ma scusa, eh. E lei pensa al fichi fichi. E vabbè, non c'è più spazio per te, tesoro. Vai a mangiarti qualcosa. Ah, vuole chiacchierare con Lucia. Certo, va bene, va bene. Chiacchiera con lei. Amichevole. Altre scelte. Discuti degli interessi. Sì, sei sempre sorridente come la mia Michelle. Sono sicura che tu abbia a che fare con lei qualcosa. Mi fa molto piacere conoscerti, Ginevra. Michelle mi ha parlato tanto di te. E immagino come Michelle abbia parlato tanto di sua madre. E infatti ha la faccia di... Ma sgamata. E lei pensa sempre ai suoi cani. Vabbè. Dove stai andando? Ah, chiacchierare con Lucia e bersi una bevanda. Va bene. Lei comunque se la sta spassando alla grande, eh. Non c'è che dire. Amichevole. Facciamo altre scelte. Non penso che possa abbracciarla. Comunque cominciamo a salutare anche gli altri. Per cui... Altre scelte. Impara a conoscere. Che faccia? Dai, fuori. Tutte fuori. Anzi. Vai qui insieme. Io ringrazio davvero tutte quante per aver organizzato questa bellissima uscita. Grazie mamma. Grazie Michelle. Altre scelte? Vabbè, facciamo un discuti degli interessi. Grazie veramente a tutte. Sono felicissima, grazie. E sì, Michelle ha un piccolo problemino idraulico. Per cui dai, ringrazia. Ginevra. Che fondamentalmente non hai un rapporto chissà che stretto. Per cui... Impara a conoscere. Ginevra, te smettila di bere perché sennò te la fai addosso prima o poi. Grazie anche a lei, signora Charlotte. Sono veramente felice che abbia organizzato tutto questo per me. Non vedo l'ora di diventare sua parente. Impara a conoscere anche perché non la conosci praticamente. E non ti preoccupare tesoro, il matrimonio è una guerra. L'importante è che non va ammazziata a vicenda come due mosche. Poi tutto il resto si può fare. E sgridalo pure il mio Gabriel se non dovesse fare qualcosa di... Cioè se dovesse fare qualcosa di non conveniente, eh. Mi raccomando, sì. Amichevone. Anzi, dai consigli genitoriali. Comincia subito. Altre scelte. Dov'è, dov'è, dov'è? Dai consigli genitoriali. Smettila con queste bevande. Dai, cambiati per favore. Cambia abito e mettiti gli abiti quotidiani. Volevo che tu dessi dei consigli genitoriali a lei. Ecco, dai consigli genitoriali. E mi raccomando, anche i figli sono una guerra. Ma tu non devi farti scoraggiare. Ci sarò sempre io al tuo fianco per aiutarti quando ci saranno. Beh, un po' presto per parlare dei figli. Ginevra, non crede? Però ho raggiunto il livello 1 di genitorialità. Ma no, ma perché dici così? Insomma, lei ne ha presa male perché ha detto che è un po' presto per i figli. No, no, no. Ginevra, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Stava solo scherzando. Io comunque direi che terminiamo il raduno e ce ne torniamo a casa perché direi che è l'ora di concludere questo aggiornamento che è durato un bel po' in effetti. Mi scuso. Però era una cosa che volevo fare in una sola puntata perché effettivamente tirarla troppo per le lunghe non mi sembrava il caso. Comunque la prossima volta vedremo sicuramente cosa vedremo ovviamente? Ma un matrimonio, è ovvio. Per cui noi andiamo a casa con tutti quanti torniamo dalla nostra famiglia della nostra famiglia che diventerà una vera famiglia unita nel vincolo del matrimonio. Per cui sì, la prossima volta vedremo il matrimonio. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto scrivetemi in un commento cosa ne pensate se vi è piaciuta questa idea di fare due feste ad arrivare un po' tranquille un po' più tranquille di quello che mi aspettavo però ci stava era nello stile secondo me un po' di entrambi sia di Gabriele che di Martina. Per cui io vi ringrazio tantissimo per avermi seguita fin qua così a lungo Sì, vai a mangiare qualcosa vai in bagno Iscrivetevi se siete nuovi mettete mi piace Sì, dovrei sistemarli un attimo Va bene, ho capito Che scocciatura Preparo un pasto da gourmet in serata capresa Dicevo Iscrivetevi se siete nuovi mettete mi piace commentate attivate anche la campanella e andate in descrizione dove trovate tutte le playlist di tutte le serie che sto facendo con The Sims per cui potete trovare tutti gli episodi là se ne avete perso uno se volete guardare una nuova serie c'è tutto quanto là sempre nella descrizione del video trovate i link ai canali dei miei amici youtuber se quali vi invito a iscrivervi perché sono tutti molto molto bravi per cui andate a guardare anche loro detto questo io vi ringrazio spero che l'episodio veramente vi sia piaciuto io mi sono divertita a portare fuori questi due per cui grazie a tutti per essere passati ci vediamo alla prossima con il loro matrimonio e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti